Una mostra didattico multimediale è l'iniziativa promossa anche quest'anno a conclusione dell'anno scolastico dalla Scuola Medi Agostino Inveggio e Sedisciac che si è svolta questa mattina all'interno della palestra Salvatore Galluzzo in esposizione ai lavori realizzati dagli studenti durante l'anno scolastico che sta per volgere al termine grazie ai tanti progetti avviati dalla scuola. All'inaugurazione della mostra hanno preso parte gli alunni, i genitori, le autorità cittadine e tutti gli operatori scolastici durante la cerimonia c'è stata inoltre la premiazione degli studenti che si sono distinti nei concorsi e nelle gare durante l'anno scolastico e ai quali sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ma l'occasione stamattina è servita anche per presentare un'altra iniziativa grazie al progetto denominato Porta a Porta curato dai docenti Tiziana Inciarrano, Franco Macaluso e Giorgina Perricone studenti e insegnanti hanno lavorato al ripristino delle porte dell'istituto in pratica sono state tutte dipinte di bianco e abbellite con inserti in legno per conferire luce e colore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti